Diocleziano riformò anche l'esercito per risolvere il problema dell'instabilità dei confini che dovevano essere adeguatamente difesi dalle continue incursioni dei popoli esterni. Egli suddivise le legioni in unità più piccole. A difesa delle frontiere pose un vero e proprio esercito di confine, una sorta di milizia territoriale costituita dai limitanei, cioè dai soldati stanziati lungo il Limes, la frontiera fortificata. Per rafforzare l'esercito dei limitanei cominciarono a essere reclutati i gruppi di barbari residenti presso i confini. In breve tempo l'elemento germanico divenne preponderante nelle file dell'esercito di confine. Diocleziano creò inoltre reparti militari stanziati nelle città principali e pronti a intervenire rapidamente laddove si presentasse una minaccia. Questi reparti formavano un esercito mobile, il Comitatus. Si trattava delle truppe migliori, meglio equipaggiate e meglio pagate, comandate dallo stesso Diocleziano. Due aspetti della riforma militare di Diocleziano si riveleranno, per così dire, fatali per il destino dell'impero. Il primo. Ogni Augusto e ogni Cesare disponeva di un proprio esercito. In tal modo Diocleziano pensò di aver risolto il problema della difesa dei confini dell'impero. Quello che non aveva previsto era che Augusti e Cesari avrebbero poi utilizzato i propri eserciti anche per farsi guerra tra loro e per imporre la propria candidatura al trono imperiale. Il secondo aspetto è dato dal reclutamento di individui appartenenti a etnie barbariche. Una prassi non del tutto nuova, a dire il vero, è già utilizzata in passato per rinforzare gli eserciti impegnati nella difesa dei confini, ma che la riforma di Diocleziano contribuì a estendere e a consolidare. L'effetto, secondo alcuni storici, fu la barbarizzazione dell'esercito. I migliori elementi dei reparti formati da germani, slavi, asiatici, che appartenevano a tribù esterne ai confini dell'impero, riuscirono a scalare rapidamente la scala gerarchica fino ad approdare a ruoli di alto comando e a inserirsi nelle elite di potere dello Stato.